A Roma ci sono 337 organizzazioni non governative, di cui 111 si occupano di cooperazione e solidarietà internazionale e 11 operano nel settore agroalimentare. Questi numeri ci confortano, ci fanno pensare che la scelta di tenere la fiera a Roma sia sicuramente la migliore. Altrettanto importante è il ruolo degli organismi internazionali, saluto la vicepresidente dell'IFAD Cornelia Richter che ringrazio per essere qui con noi oggi ed in particolare tutto il sistema delle agenzie specializzate delle Nazioni Unite e delle altre organizzazioni internazionali presenti a Roma e per le quali un maggiore coinvolgimento di cooperazione con gli attori del mondo privato potrebbe costituire un portentoso moltiplicatore di sviluppo non soltanto delle attività ma anche di rafforzamento delle agenzie e organizzazioni stesse. Le fiere italiane, e parlo anche da responsabile per l'internazionalizzazione della nostra associazione che conta ben 35 quartieri feristici in Italia, siamo la quarta potenzia mondiale, le fiere sono un'eccellenza italiana. Considerate che ogni anno il 50% dell'export passa attraverso i nostri quartieri feristici. Grazie a tutti!